buongiorno allenamento da casa con quello che abbiamo a disposizione usiamo la sedia ucicumi posso giocare anche dall'altro lato cambio dal lato rato cambio ok questo è un esempio di esercizi fatti con la sedia adesso cambiamo un attimino apprezzo prendiamo un bastone questo è comodo perché è abbastanza lungo ma volendo si può usare anche un manico di scopo anche qui sottogare posso ripetere anche dall'altro lato posso fare anche a regochi un po scomodo perché scivola il tappetino sul pavimento essendo così alto posso fare anche il coscivuma un po di esempi come il punto per provare e poi metteteci la fantasia e vediamo che cosa vi viene in mente bene adesso chiamiamo in gioco il nostro che virtuale giacca manico di scopa costruisco il mio che alle braccia un po lungo questo che prometto a terra e ripassiamo cambio un chiesa catana cambio un chiesa catana cambio un chiesa catana questo è un esempio se ne possono fare altri e diamo spazio e diamo spazio alla fantasia adesso il nostro che sempre a terra partiamo cambio un chiesa catana cambio un chiesa catana cambio un chiesa catana cambio un chiesa catana cambio il ritorno in kameshi cattano puoi mantenere l'abitudine al movimento a terra Grazie. 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 Grazie.